Buon pomeriggio, ben ritrovati da Gianluca Verna, dagli studi della Sud Comunicazioni. Torniamo in onda con Battite Azzurri, lo spazio dedicato ai tifosi del Napoli. Prima di parlare di calcio, questa settimana ci tengo a ringraziare tutti voi che ci state seguendo in questo percorso. Lo staff di Battite Azzurri è a lavoro, presto vi proporremo un format rinnovato in cui voi sarete protagonisti e potrete partecipare, dicendo la vostra, sulle vicende relative al Napoli. Quindi continuate a seguirci come state facendo e presto ci saranno delle novità. Adesso però torniamo a parlare delle vicende che più ci interessano. Ci siamo lasciati prima della sosta, prima della partita del Napoli col Verona, al San Paolo gli Azzurri hanno vinto e si sono guadagnati le festività invernali. Che quest'anno per la prima volta non sono coincise con il periodo di Natale. Adesso però inizia a tutti gli effetti la seconda parte di stagione. Il Napoli sarà impegnato in due fronti, il campionato e l'Europa League. Quello che chiaramente ci interessa di più è il campionato. Basta vedere la classifica per capire quello che ci attende. Il Napoli è primo davanti a tutti, la Juventus è vicinissima. Poi c'è il vuoto. Da adesso saremo fino a maggio pronti a palpitare perché sarà corsa a due, battaglia vera tra queste due squadre. Per arrivare nel modo migliore fino in fondo la società sembra intenzionata a regalare a Mister Sarri quello che ha chiesto. Ovvero il rinforzo che completerebbe il pacchetto offensivo. Aurelio De Larentis ha fatto carte false per portare all'ombra del Vesuvio il talentino del Bologna Simone Verdi. Ma è stata veramente una telenovela quella che c'è stata attorno al giocatore. Le due società avevano raggiunto l'accordo. Anche con l'entourage del calciatore c'era un'intesa di massima sulle cifre da sborsare. Però è stata decisiva la volontà di Verdi che ha preferito non lasciare Bologna in questa sessione invernale di gennaio. Adesso quindi bisogna sondare altre piste e farlo anche rapidamente. Sono quattro i giocatori che il Napoli sta seguendo ma nessuna di queste trattative appare semplice per motivi differenti. Ci sono Deulofeo del Barcellona e Politano del Sassuolo. Sono giocatori ai quali si può arrivare però non sembrano essere soluzioni gradite dal tecnico. Poi ci sono altri due giocatori che invece avrebbero il placet dell'allenatore. Si tratta di Starridge e Lucas Moura. Però in questi casi bisogna intavolare da zero un discorso con le società di appartenenza. Quindi il Liverpool per Starridge e il Paris Saint-Germain per Lucas Moura. Il nodi verdi ha messo in difficoltà il Napoli. Il giocatore del Bologna sarebbe stato l'ideale perché conoscendo Sarri non ci avrebbe messo molto a entrare nei meccanismi azzurri. Quindi adesso il tempo stringe e bisognerà trovare delle alternative. Però in settimana arrivano anche buone notizie. Si arrivano dall'infermeria. Procede spedito il recupero di Goulam e Milik. I due calciatori dalla visita di controllo a Villa Stewart hanno ricevuto il via libera per tornare in gruppo. Adesso inizia l'ultima fase della loro riabilitazione e nel giro di poche settimane ritorneranno in campo. Ritrovare il terzino algerino e l'attaccante polacco è fondamentale perché a partire da adesso, dal match con la bestia nera l'Atalanta di domenica, inizia la corsa Scudetto del Napoli. C'è bisogno di tutte le risorse a disposizione per continuare a sognare. Scudetto del Napoli Scudetto del Napoli